La grande adunata di oltre 300.000 aderenti al fronte patriottico delle sezioni di Viene e della bassa Austria presenziata dal cancelliere Schuschnigg nell'antica piazza d'armi della capitale. La grande adunata di oltre 300.000 aderenti al fronte. La grande adunata di oltre 300.000 aderenti al fronte. La grande adunata di oltre 300.000 aderenti al fronte. La grande adunata di oltre 300.000 aderenti al fronte.